Gli obblighi derivanti dai trattati, il segreto di Stato, il retroscena degli avvenimenti più noti, le strategie della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale, la propaganda mediatica, il ruolo degli uomini e dei gruppi di pressione che si muovono nell'ombra, l'assalto a Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Cipro e nel mirino l'Italia, le complicità della classe dirigente, gli intrecci fra affari e politica e le menzogne per far credere senza ritorno la strada di questa dittatura europea.